Un saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori tra Empoli Est e Ginesta Fiorentina si segnala un chilometro di coda in direzione Firenze. Nella stessa tratta rallentamenti in direzione Livorno. Per questi lavori lo svincolo di Montelupo Fiorentino è chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo da Livorno. Un chilometro di coda tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto in direzione Pisa. Segnalati rallentamenti in A1 verso Bologna tra Calenzano e Aglio. Nella stessa direzione si viaggia incolonnati tra Arezzo e Incisa Reggello. Sull'accordo c'è una Firenze riduzione di carreggiati in entrambe le direzioni per lavori tra Tavarnelle e San Donato. Riduzioni in entrambe le carreggiate anche tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in Pluneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!